Si si ora un attimo fammi sezionare Tutti saltano i turni però mi sono dovuto prendere 70 danni questa non l'ho capito Allora game capture E quindi che palle E quindi cosa e quindi cosa E quindi non vale niente quello che ho fatto Rimarrà nei tuoi cuori Ho capito Nei tuoi cuori, quanti cuori ti ho dato Due, due, io sono il dottore Come? Da doctore Ho capito cosa era successo Marco Comunque ricreavo la partita Cosa era successo? Quando tu flippavi verticalmente Andava tutto in basso Dovi mettere il tasto a destra e lo resta il transform Ma tanto ora non ti preoccupare sto facendo io E non mi era venuto in mente Sto scherzando Mi dovevi arrivare una settimana fa al libro del cazzo Ma mi arriverai tra 4-5 giorni Credo lo stesso per dimmi dovevi arrivare una settimana fa al ciclo Non so per quale Posso leggere un attimino quello che ha scritto il buon due piedi? Ma certo Domenica pomeriggio Verso le 15 e 30 a riunione in piazza Livorno Da lì partiamo con i furconi Verso l'abitazione del signor L Spadoni Oppure Luca S Ti prego Lampiona quando vuoi E non mi avessi invitato E non è vero Scusate Aiuto basta dato Aiuto 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 Luca Se me lo rubi di ammazzone in botte Ci sono chip ci sono 4 Ci sono chip eh? Ma erano 5 prima Ci sono chip ci sono Ciao lighter L'hater spawna quando si fa a vermi Dado, Dado Se prendi Tokyo E lo metti alla fine Diventa Kyoto Ma lo sai che i kanji invece sono diversi? Questa ce rovina la festa Io non lo so Io me ne vado Basta No Allora lo cambio Dado, Dado Prendi Tokyo Togli Kyo E metti Vaffanculo Diventa To Vaffanculo I kanji Chi sono uguali Sì, sono uguali al mio cap Allora, secondo voi, far rimbalzo? Fa sfondo Si chiedeva la chatta amici No, non fa sfondo Con la freccetta Ok, mi si è tolta adesso Mi esco Ti esce fuori la freccetta E tagli la chat Ah, grazie Marco Mi sono caldi Ah, vedi Mi sono perso Chi sta facendo cosa Ah, eccolo Bastardo Perché io Che colore sono? Ok Antrace vivo A me sta laggando fortissimo il gioco No, a me va bene No, a me va Oh, ne tiene waifu Di chi è trappone? Speriamo che c'è questo martedizio bello Martesì dai Martedizio bello Ah, per il prossimo Sì, cazzo Okio Dai, da dovevo cantare una canzone Monitor Eh, proprio lui Quello grosso e duro Io dico la prima strofa e tu continui Va bene, da Vabbè Tokyo una città Tra luci e ombre Cazzo Non me la ricordo mai La vita Ma se come era una fondastro Ogni quartiere Un mondo a parte Intridente d'acciaio È tornato È tornato Fatti prendere Per la mano Adesso mi ho mandato Questa è la storia di Non mi ho pensato Cosa è successo? È un'ottomissima Di Dario e Cippe In Giappone Lost in Tokyo Eccolo qua Ma è rimasto incastrato quel blocco Ma ho cantato È già più avuto abbastanza Perché? Va bene Io ti mando Marco a casa adesso Quindi la pioggia sarà La pregherai per la pioggia Sarà l'ultimo dei due problemi It's raining cerchio Alleluia It's raining cerchio Sotto fatto Parliamone Ma è Bravissimo Scusa Quella che era uscita Ma il fatto è che io ero Lontanissimo dal raggio della mina Non so perché mi abbia preso Ragazzi Io adesso mi sento Mi sento come Quando muore Non si accorge che la torre sull'uoli Sta attaccando Esatto Comunque ragazzi Intanto vorrei farvi notare I nomi dei vermi di Marco Cioè Grinsetta Grinsy Grinsuccia E The Grins Che è appena morto Che è il capitano Capitano The Grins Dai non farmi male Dado Fai piangere la prima volta Ha fatto più male a te Di quanto ne abbia fatto a me Non so Non serve Non serve che tu me lo dica Che mi odi Lo so Perché sei un genio Lo so Grazie Perché dai falsi speranze A sto poro Ma grazie altrettanto The Grins è quello che ho Dei Natale Esattamente L'ho preso da lì Oh no Ciao Grinsuccia Ciao Grinsuccia Ma se non puoi far male a Grinsuccia Non sono io infatti Chi cazzo è La run Lampiona Lampiona ti esco le grinze se lo fai Lampiona ti esco le grinze Prendolo a prendere il telefono Ma dove va quello Che tocca a lui Cosa credi che non abbia mai vissuto le grinze Come? Wow Dov'è la prima persona che vedi? Eh se ne fai i notici lì Proprio guarda Cade a caso Marco Dai Calma Comunque Big Gay Che penso sia un verme dedicato al Bonairu Penso pronto Morirà annegato Sì Probabile Ma vedi guarda che atleta Mamma mia Incredibile Ma le grinze della panza Chiede il signor Lighter Fireboy Sì 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 Proprio proprio quella Se sei minorenne sì Simone non so cosa dica Dice dato No Madò Di nuovo Rega la qualità è scalabile Però io vedo Mi dite se la qualità è scalabile Subito Aspetta È scalabile qualità apposto Allora Avevi scazzato Eh mi scordo sempre di togliere St'imputazione Mi è rimasta quando Ho formattato Erano vorrei guardare lo scrotto Di cercello Se fosse Al posto tuo Sì vabbè ma Ma se sei un pazzo Ma se brutte ne ho visto Sarebbe l'ultimo Oh Dato Don cazzo Viene dalla cucina Porco case Cucina porco case Pensa che Brilla di luce Quando vedrà il mio scrotto Ti metterà a piangere la sua bellezza Pensa che brilla di luce proprio Oh mio Dio Chi sei Eddor Callen Mamma mia No 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 Mi percivano le fighe Non il cazzo Mamma mia Anche a lui Prima hai detto il contrario Marco perché mi hai sempre fatto credere il contrario Dato Non rimbalzare schiantati a terra Porca croia Calcolato Scusa Simo L'avevi messo la fibra Massimo no Sì bravissima E a che ti che ha messo la fibra Scusa No vorresti insinuare che il suo scrotto è meglio della sua faccia Cosa Ma dobbiamo prima definire quale è lo scrotto e quale la faccia Ragazzi Ma ha sempre un piacere essere con voi Di giocare un po' con voi Lo sapete Eh Marco non è quello che consiglia a un psicologo Sì 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 Come noi psicologi su dieci consigliano di uscire con gli ricordi Sono brava Ricordatelo Mase che io sono una persona brava Devo chiedermi perché sei andata qua su Tu stai giocando sul Tu stai accumulando karma positivo Ah lo scrotto è quello che mostra in web durante la live Ah non erano le cuffie quelle Vabbè faccio Ma perché su Big A Eh dai Eh volevo arrivare a Grinzi Eh volevo arrivare a Grinzi con il tiro moscio Vabbè Una Grinzi Non fa primavera però Marco che stai facendo Marco posa Marco posa quella corda Marco Eh ma se l'averci avrei già fatto un bel po' di volte Ragazzi una mattina live in solo su Fortnite Punto alle 98 kill Ma personali nel senso che ti ammazzi 98 volte Marco tocca a te È in fondo il tempo di far partire Ma vedi che tu puoi muoverti prima del candaro Se ti muovi prima del candaro lo fai partire Parlo da Parlo da Che dove si fermasse Un'applaudio Friend Friend Mi si rivede Ne ho 18 volte E poi chiudo Io Ah ma ne hai ancora due Pensavo fosse il tuo ultimo Sono stata forse un po' troppo Magna Ma allora Vai Mase Cosa fa No Mase Mase C'è la mina Mase Mase Sto pensando Non fare il Luca S Amici Io c'ho il mio pesetto in mano Mi sto divertendo un sacco Ah Io ho il mio cecetto in mano Mase? Mase? Ma io so Io Sono triste Scusate Vi state lamentando del fatto che ho colpito lo sfondo No Mase Mi sto lamentando del fatto che non so cosa tu abbia fatto Questo è pazza Questa non sta bene Smetti di darmi della pazza Smetti di darmi della pizza Luca Si sente in colpa Ciao Luca Luca si sente in colpa e si sa Ma non parte il cazzo Però Si è partita Perché da meno Ma non è partito Però due piedi culo ha scritto Quindi non va bene Ciao Marenix Ciao Marenix Penso sia per quel motivo che non è uscita Che ha scritto due piedi culo Ah è una parola bloccata Dici No no Come si permette di in sottra due piedi Giusto Ranno con sta granata Flamentazione Rotti coglioni Però eh Ampio no Lungo Bravissima Ran Ragazzi un applauso Friend Friend Questi tirano fuori il coltello È finita Ma noi si ridono Perché ridere ci piace Mi piace Metti di darmi della pazza Disso allo specchio Dai Dai io continuo Marco agita quella mazza È venuto Marco Marco Stai chiudando un Non lo so Che posso fare se è duro Ed è proprio lui Quello grosso È duro Ma se Ah ma se quella avesse meglio A chi deve Ballare quelle chiappe Marco ci mandi Un video in cui si è twerky Per favore Vai Marco Make their ass clap Un attimo eh Ci trovo Bravo Marco non si vede però È proprio fatto È però Marco Io non ci credo mica La cosa bella è che Per farlo più Più era le posizioni Sono messo le mani Della schiena Mi sono rotto tutto Scusate Scusate Mi tenete un po' di compagnia Per gli allenamenti Bravo Morinix Però togli ci le cuffie Così fa una figura di merda In tutta la palestra Morinix Metti a tutto volume E io adesso parto Con un orgasmo Guarda Daci il via E Cercello Dirà una cosa per te Tipo tira un orgasmo Fortissimo Mi amete Addirittura con l'acqua Lo vuoi lavare Non ho capito Fusca No i soldi I soldi Fammi non lo amore Beh mi posso dire Che è proprio divertente Giocare con voi Ma cosa dici Che sono sempre io Quella cammini Lighter Possono cosa Lighter Un'idea del genio Mi sfotti sempre Poi scrivi Applaudisci Seriamente Lighter Però Si può riscrivere Prima studio Di un bel dizionario Non sono in palestra Sono in giro A correre Marco è Ancora Gratissimo Marco ti dai Una calmata Grazie E non ha le cuffie Attenzione Allora Morinix Posso fare Ok No E doppiavo il verme Doppiavo il verme Che è che è morto Tu Ma se non direi queste cose Che mi sono morte Le cuffie Durante 18 ore Mentre correvo sul tapirulano E che è colpa mia Botte 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 Poi sta vincendo Dando Come sta storia Sto vincendo Dando Di un pelo di culo Sto vincendo Che cazzo vuol dire Dipende qual è il culo Dipende dal culo Dipende dal culo E' un po' puzza Le cazzo Guardano male Troppo forte Rip Vabbè mi colpisci con me Vaffanculo Ma prodisce lo dice il correttore Il correttore Credo abbiamo Poi pagliato Right Leggermente E anche te che gli diretta Marco in realtà Ora si dice Si scopre che E' italiano arcaico Io Applaudio 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 Quando ci sta provando Applaudio Applaudio Ok Scusate Andiamo di Cosa fa questa Andiamo di cazzo Andiamo di cazzo Don Non c'è un cacchio Allora Sto per provare Non ce l'ho Ma non c'è niente Ma perché Inizia a spianarti la strada Insomma Perché su di me Perché su di me Che t'ho fatto Perché ci siamo solo io Ma tre cane è corretto Ma che ora si ho piani Di certe cose Non te ne inizia No E non è per colpa E non è per colpa Dei vostro radio Che ti guardano male Morenix Stai correndo Con le palle Che sciondolano Dai classica Le vecchiette Non ho capito Le chiedi il numero Baccai i barboni Che fai Sei vestito da Goku Sei vestito da Airu Perché Guarda che si gambera Che parrocca ci vuole Ma se Rati Un MC Novantuno Novantuno C'hai provato Ma te ho mai Sgocciolato Sgocciola Penzola Guarda Guarda come cade a pezzi Ma Eh niente È a fuoco Però Eh aveva Ma sono due vermi Prima Ma tocca a trappone Marco Quella chiavetta Te la infilo nel naso Ti propongo Maserati MC Napoli Novantuno Maserati FC Napoli Sfascim 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 Capita Il fascio Esatto In tema Quella live Tra l'altro Dai È ormai Ma se fammi un rap Davvero MC Ma Ron Tu facci Tu spari un rap Napoletano Yo 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 Sono travestito Cosa Sono travestito Da uomo Con l'impermeabile Quello nudo Che puoi caccia Il cazzo È solo quello Morenix Che culo Quel pixel Ma vaffanculo Pure la mina Ma cos'altro Tu schiaffi Mi vuotirà Aspetta Forse No Ma Ron è di casa Pound Che si indigna Ogni volta Può essere Oi 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 Ai 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 Che cosa mi sono indignata Ogni volta Diciamo la parola A fascio No E che mi dà proprio Un fastidio Dare importanza A quei cretini Ops E' appena dato importanza Lamp L'hai visto? No dai Sì come ne pentino Ma ranno un attimino Più basso Rispetto a voi altri Luca non è vero Perché ho sui mie orecchie Ed è uguale Allora Esatto Vai pisello duro Dai fai fuori Ne gire waifu Che devi fare L'allenamento di 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 I want you Applaus Ehm Mo che Che ne foio Che è uno No c'è anche Mase Cavo c'è un bastone Ah il bastone Devo agitare la mia verga Ok La sta divina La sta divina Ma vaffanculo va Dimmi che non è morta Dai No Toto Toto Trenta Ma dai Ma per favore Ma per favore Sta negando Lo voglio vedere se Rimasta a due Non ci voglio credere Ecco non c'è la musica I want to know Vorrai sapere Non ci sono cure Come fa la gente Cinque chilometri settantaquattro Ah Eh beato te Io non so camminare Io non so camminare Impareremo Il mio piede non sa coordinare Ah Clap your ass Meglio in english Yes In english Abbatti bunker del culo Non ci arriva mai Non ci arriva mai tanto No L'avete detto adesso ci arriva Guarda Ma fa un buc Mase però hai fatto un caciocavallo Di sotto guarda Vì che bello Il caciocavallo impiccato Io non so parlare con Mase Vai mc Ogni volta La fatica sono quei 74 mesi Mase Mase Muu che culo Mase 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 io credo in te Mase Mase Posso dire una cosa No A tempo È vero Cos'è che mi fa imparare a camminare Non ho capito La voglia di morire La voglia di morire No Perché ti ha dei rischi a così E ciu Addirittura Per me non c'è Un secondo Va bene Va bene Beh Che bello Ritorno Vai Jegen Per me La supera E boom No Ok Io lo provo tantissimo Cosa È la pecora super Ti 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 Ma se non è vero camminere benissimo altrimenti Sì Vogliamo ricordare da chi ho offerto questa live Ma ovviamente Da viaggioveni.it No È live giovani È live giovani.it Da live giovani.it È Parapa Papapa Per la prossima live Mi preparo jingle Da No no Mi programma un bottone sul telefono Faccio un'applicazione con un bottone Che suona quel suono Fatta Me la devo solo ricordare E devo solo trovare quel suono da solo Ma se non è vero camminerebbe benissimo altrimenti Ma che c'entra Simone con sta cosa Ma io Simo guardo È sempre in mezzo È sempre in mezzo alle palle Ah già perché quello dice che si va a giocare al pallone E poi si è rotto le gambe Sarà l'offerta dal referral Io non so parlare Cosa fare Che non sia quella papera che ci guarda là dietro con l'occhio Le vecchiette mi guardano di quel nostro territorio Papera Io non so che fare Facciamo questa cosa Ti guardo mentre ti masturbi Aiuto La prima volta che vedo Oh ma non si ferma Oh Eh no Ah tipo tot Secondi Sì Eh che culo Sì Non scivono giù Sì Inizia da Mamma mia Mamma mia Sono fortissimo Mamma mia Vorrei far notare che il colpo su di me era l'ultimo Sì Non è stato Non è stato Non è stato Comunque si ora vi faccio vedere La formazione di Di cecetto Per Per interrogarlo Per interrogarlo Marco la capitale dello Zimbabwe Ciao Simo Buonanotte Ciao Simo Marco Spogli ti fai vedere chi è l'alfa No dai Chiedo l'aiuto La risposta da Jerry L'aiuto da Jerry Jerry Chi è Jerry Che nella nuova Nel 2018 Sul mio Al milenario L'hanno messo come aiuto Anche chiedilo a Jerry Ma che cazzo è Dai Ti fa sbaglia apposta No L'hanno L'hanno fatto 14 volte E 14 volte L'ha Zecchato la risposta Vabbè c'è la risposta di lui Eh sì È uno skip Abbiamo il Grins Grinsetta Grinsy E Grinsuccia Bene Dov'è Dov'è il Grins Eccolo qua Il Grins Che fa una doppia Con il bazooka No E invece La fisica ha deciso Di no La fisica ha deciso Di punire Lampione Ciao Simo Ciao Simo Ti ho già salutato Ma Non ti risaluto Vaffanculo Simo Ah Come disse Come disse il buon due pippo In quel di Milano No Dona E poi ti saluto Non è manco sub Morinix dice Le vecchiette mi guardano Tipo È il nostro territorio Con la sigaretta in mano Pensa sentri Pensa sentri Per favore Io adesso Se io colpissi Tipo così Eh Dribalda Madonna santa Non esce E no che non esco Sono fortissimo Marco Perché mi hai preso Ma poi perché tutti Contro di me Oh Este decaz Poi sembra giusto Che io spawno Qui sotto E quindi sono 51 Appena inizio Non sei spawnato Ci ha mandato La run Ma se fammi Sognare Buonanotte Dado Che bel tiro Grazie Più Piario E non è caduta Ragazza Piisti Pi sta Si è incassato il verme Questa è quella frase Che pot icele Se hai un videogioco Se hai quando fai Le cosacce Con la tua ragazza È una di quelle frasi Ma se puoi usare ho sbagliato tasto 1 final flash qual'era quella di gogetta 4 final flash come a me a per cento e cambiava big ben no no problemi ha mossa fino a me a me mi ricordo un canale a fare al flash per cento e camia mia big ben mille che prendeva tipo il doppio big bang maxi spigoli come cazzo funziona mi spiegate perché gogetta non è canon a parte a parte che nell'ultimo film canon e quindi vaffanculo e quindi vaffanculo però perché gogetta perché super sian 4 non è canon e gt non esiste più e perché super sian 4 che l'altro per sempre più bello di tutti non è canon ma lo soltanto perché c'è capelli scuri fanno soltanto perché design più fantasioso dato perché ti piacciono le scimmie marco deve saperlo se guarda il mio notturno mi sta prendendo un campo a un'altra mosca marco ragazzi mi raccomando prima delle live fate sempre cinque minuti di stretching ti piace il 4 solo perché furri il super siano a quarto livello è vero io pensavo al fuori e quindi fuori da quello non più non ha una mente distorta e malata potrei risultare ripetitivo ma sei pazzo marco sei grazioso beh tu scusa tu pensa una mia mica giocavamo a tabù si doveva allora il suo ragazzo le fa ci porti le bibite al tavolo no ci porti le bibite al tavolo va su io esatto la risposta lei ha risposto al cattolo no marco sei un pezzo di merda ma dove si appeso trappone quella visata isterica mi ha spaventato marco sei grinzoso non grazioso marco le tue grinze sono graziose grazie lo so ci metto sempre il rossetto cosa immagino marco che su ogni grid si mette tipo peter griffin sei una puntata è una puntata una puntata nona chi sei tu tu sei una puntata dato quella di concetto era la big bang cambia mea per cento nello sbagliato che aveva fena fresco la camera forse l'ultimo film mi ricordo so big messo fai affia sulla camera e dato se tu ti fai di droga però non puoi prendertela con noi fai naru kamehameha fai naru kamehameha vegeto che tra l'altro è la cosa più inutile del mondo però questo che è un altro topic vegeto chi è più queste non le ho da live chiudere su drago domani facciamo la live chiudere su drago quello coi potara che in super dura circa 25 secondi e non esagero quello coi potara quello di quello di coso di che poi la cosa bella è che quello che potrebbe essere definitivo sì però su super dicono in super si sono parati il culo dicono che anche lì c'è un tempo però non ha senso non è vero perché i kai i kai stanno da millenni quindi vabbè lasciamo stare è una delle tante incongruenze l'avete ci farò vedere che big e non riesce a uscire ma non è fatto ma è bellissimo vegeto a me non piace io preferisco 3000 volte gogetto lampiona questa ci fa il cazzi suo io non lo so eh tu lo sai sta lì con la sua copertina si sta addormentando un pochino dicono appunto che definitivo per le divinità temporaneo per esseri umani eh vabbè dai per quanto è esplosa l'acqua definitivo per l'umanità questa mappa con il porto ci sta a frega tutti i tiri eh si si questi queste conche queste conchine ah il ruo a me te fai cacare lighter cioè non avevi visto neanche la dragon ball z il primo lighter io ti banno o dragon ball normale o dragon lighter aspetta aspetta la domanda no no aspetta lighter quanti anni hai perché se dopo il 2006 allora ok non li davano qua praticamente più ciao teici ciao teici eh vabbè con le sfere del drago eh vabbè ma dico eh ma son morti prima una lina una ragazzi quanto sa livello c'ho quanto dritto eh ma no tu considera che qualsiasi altezza non viene contato il fatto che capi in diagonale la distanza è doppia cioè è sempre un'unità eh i spostamenti dei verbi vanno comunque sull'asse delle x sai cos'altro nel segreto della scia? sai cos'altro nel segreto della scia? vai hai fatto un hai scorreggiato? davanti al microfono si ok eh non ho mazze si anche ho avuto un attimo odore di marcio aspetta un attimo odore di marco aspetta aspetta di marco si mmm od mmm questo è alito mattutino uff caculo no scusate questo era catarro invece di ma di di dado questo era catartico ok ho finito bene marco puoi colpire pisellone duro o sefilide dai ci non va mica guarda oppure aspettare che il pisellone duro ti faccio dire la sefilide guarda taishi io sono soltanto idiotico e prima dicevo appunto a mase che ero disperato perché non potevo bere sabato sabato sera e mase mi ha dato del alcolizzato infatti non so perché ho usato la batti bunker marco e poi e lì avrei usato il bombardamento base ragazzi ma ragazzi questa cosa è grave e mase mi ha dato dell'alcolizzato che strano ti ho dato ti ho dato tardi hai venuto tardi molti mesi fa dell'alcolizzato si mase però dai non è niente decratante mi dispiaceva perché non potevo bere niente neanche una birra sabato sera che uscivo ma tu non hai detto che uscivi si no si l'ho detto giorni fa questo non mi ascolta questo non mi ascolta mase non è il calendario con i miei spostamenti che ti ho dato mase perché non ti sei salvato il gps si dispera perché non puoi bere una sera perché sotto antibiotico un po' lo sei mi ha visto una figa come cazzo si invertiva sto coso o no da dove ci stanno bombardando no il grince no e vaffanculo è un'altra combo e vaffanculo porca troia porca troia porca troia porca troia azzic tro meriti mase oh dio ma sono morto perché perché avevo t'ho fatto 76 danni ma io ce n'avevo più di 76 ragazzi facciamo di capire ragazzi facciamo di capire che ha problemi che deve parlare con lo psichiatra e fuori mi picchi ogni sera non posso andare a dormire senza un nuovo livido ero chiunque qua dentro ti picchierebbe ogni sera minchia no gli tirerei tutti i capelli non prenderesti un accendino cazzo sai che soddisfazione però vedi la fiammata il natale estivo il natale estivo il suo avremo è salito e dice ahah combattiamo fai tu comprensibile non bere la vita di sabato sera è sacrilegio dado è solo un buon credente che si dispera per non poter dichiarare la sua artiom artiomi ti bacio sulla bocca ti bacio giustamente l'hater dice ci sono io di accendino no ragazzi si fidi a 33 di vita dei pippo non mi ha fatto nulla quindi il vostro argomento è invalido sì perché non era appunto con te la sera no perché due pippo in mezzo alla gente non è che ti picchia però ti ha portato a una piscina per bambini voleva soffocarti sono io di accendino giusto l'hater giusto ma se dimmi appunto me la ricembrano tutta in gonnella piano piano poi destra fa una statistica a 10 minuti di vacanza rispetto a una da dieci giorni non trovo e non posso capire perché non posso bere nessun tipo di profonda alcolica come mai è andato senza fegato mi dispiace cosa ho fatto non hai fatto nulla scambio ma non so cosa faccia il telescambio scambia due vermi però ne ha uno in squadra ok come posso annullare? vabbè ho finito poi annullare marco marco ce l'ha fatta? eh vabbè volevo fare altro ho capito colpito mea l'ultimo secondo preciso è il primo che ho visto è il primo che hai visto guarda sta lì con uno di vita è il piedi con i piedi ti immagini che adesso vince chiudere la live questo fa l'armageddon è l'unica a non prendere danno non ce l'ho scusate ho una patologia abbastanza rara che non si può curare quindi devo salvaguardare cazzo mi dispiace tantissimo dai dai ti faccio un bello scherzetto e ti scambiamo la birra analcolica con quella alcolica bravissima cosa stai inquadrando? ma continui a inquadrarlo poi ma perchè mi inquadra lassù? aiuto fa che è partito una una banana una banana una banana fortissima oh ok ok adesso inquadra green succia ok tutti qua li guarda di in alto siamo un po' comunque dai ci dai ci a Milano abbiamo a Milano abbiamo bevuto anche per te dai a Milano ha bevuto anche cura c è vero cura c anche cura c cura c perchè non sei qui ciao a Milano è stato bello ho ucciso la run con 12 ha fatto il rumore della strano non puoi stare cinque turni con un verme con uno di vita dai no non sono mai morto prima poi quell'altro si lamenta io non so no non abbiamo avuto un san valentino ma fantastico quindi per cortesia non riro non dobbiamo rovinare il ricordo l'unico è vero è vero c'hai ragione dai l'accetto guarda la che col che cazzo di tiro Dado porca traia che male mamma mia se non muore mamma mia muore pure tanto mamma mia grazie Luca grazie Maso sì ma una volta su mille ce la fa che togli i peccati ragazzi cinque euro per vedere cinque euro di donazione per vedere altri tiri come questa forse non muore 81 ora muoio così guarda e finisce così la partita segnatemi questa frase adesso cosa farà il buon Marco Ceci adesso mi butta e prendo danno e finisce così no non prendi danno da lì Marco 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 non ti immagini che per i rimbalzi finisci in pareggio ciao Dado ma vaffanculo va questo si lamenta è bello giocare poi vince è la prima che ho vinto è la prima che ho vinto guarda smonto tutto Dado Dado dovremmo fare l'oggetto vale solamente per un giorno certo Maso facciamo l'obiettivo entro la fine del mese con la percentuale guarda se vuoi lo setto subito madonna se puoi dai mi date due secondi e non so neanche come si faccia in realtà donation goal eccolo qua mhm facciamo per verificare una cosa cambia le nelle armi metti che abbiamo tutte quante dal primo turno e ci spacchiamo malissimo c'è stata anche una petizione quanto Dado quando è che finisce? alla fine del mese dai quanti in ha maggio? 30 30 30 giorni a novembre con aprile e settembre 31 chi sta cavalcando sulla tastiera ovviamente non ricorgio eh sì pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa allora non si vede ma risolviamo subito perché si fa così non r Запạzale non credo l'abbia sentita ha detto ha detto non ripeto no prima non abbiamo sentita quindi non ripeto non lo sapevo ma nessuno la simpensa che neanche la chat l'abbia sentita è peggio ancora non abbiamo testimonianze assicurato la cattiveria ragazzi è mese e mese giorno anno è vero marco pensa alle albicocche ragazzi non funziona ma se lo metto qua ma non funziona un attimo vi metto non posso neanche mettervi problemi tecnici di cazzo intimo a giocarlo facciamo per la prossima volta senza senza farlo durante la live ma si prepara prima va bene un attimo che rimedio senza di lei dai ciao ciao buone ciao buone che bello che sei a buone allora facciamo ai 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 ma se però deve uscire da qua non puoi cambiare la vasta abbiamo vaffanculo facciamo con meno vermi però raga tre vermi per uno vuole sempre baggato dice dei aspetta questa c'è una giuggetto ma ecco dai ecce clic sul tuo nome fai clic sul numero di fermi ho sbagliato vai mamma mia buone ti voglia la games week così cerchio ci deve due birre dai marco comunque taita isi intanto cc condivide il fatto che il donation gold è sempre baggato sì 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 infatti ho letto pronto perché mi si è tolto pronto perché marco cambiato il numero di fermi pronto ma guarda originale faccio originale marco cosa era così no l'originale non era pronto eh sì ma non lo vorrò mai ripetere come primo originale pronto perché praticamente c'era non mi ricordo le circostanze mi dispiare giocamamo rocket di questo me lo ricordo marco dacci un po di lore allora se non mi sbaglio mi aveva chiamato mase ah sì perché era triggerata dice una roba del genere non ricordo no a certo punto mi ricordo però che marco mi telefona sì noi abbiamo chiamato me non mi napoletano fortissimo no no erite che avevi chiamato mase ah tu hai chiamato me quello è sicuro intanto abbiamo chiamato tutti ma non più non sono di strada sì sì non più non è tra sta piando con l'ora pazza pazza ma non sono di strada rana di strada dal mio tempo vero era notanissima di chiamano cos'è diano gli hanno romano e dove vivo io dato so che mi odia ma il cazzo non ha mai sentito questo nome ragione io sapevo riserni vernia dei ma dei no dei no dei no dei no 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 faccio un calcolo sono quattro rimasto rimbola rimasto a imola a vinci amici chi di voi va luglio al festival dell'unicorno a vinci marco poi appena annunciano le band te lo dico grazie tu scherzi due pippo ma un mio amico mi ha detto io vado a modena quel giorno lì vieni a trovarmi perché lui pensava che io fossi vicino a modena e soprattutto amici chi viene a lucca comics ma soprattutto ancora chi viene da games week è cosa perché perché l'unico oggi saranno la games week e si farà pa 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 nooo aspetta ma va a fare ma non si è mosso ma non si è mosso quella mina è fortissima è inarrestabile è inarrestabile è instancabile ora andiamo che se no ci arrotano ora lo in culo ma soprattutto chi va a legnano a legnano corro con angela se sarà la cartomix del prossimo anno sarà già tanto minchia possiamo incontrare tai ci lo picchiamo fortissimo dai mia gli ecco il naso ma è lui che era pelato e luca è lui che era pelato è lui che era pelato sì ok allora ti ti sfrego la testa io più che le fiere di torino e milano non riesco ad andare ma abba buone se noi ci incontriamo un paio di volte va a finire che ti spacco tutte le ossa per come senza mascella è estensivo che ha detto pelato se non manca la sacra della carne di cavallo a secoli e saremo anche a mirabirandi agosto eh sì amici abbiamo grandi progetti e pochi soldi carne a secoli alla sacra della carne di cochi mi sa che randzi è incantata con la stessa mossa è la seconda volta che ha fatto però stavolta ha funzionato ripetita io but presentato a juventus certo rubano sempre il ventus la cazzo a cimma il comico una rosa in geris a rosa angeles cos'è tu scherzi ma io avevo i biglietti per il san diego comic campiona e non mi hai passati e poi mi sono dovuta laureare campione non mi hai passati che tiro ma va fanculo dentro ci conoscevamo nel tuo cuore mi conoscevi da sicilia cazzo ma sei da sicilia te dice non lo sapevo è veramente difficile spostarmi sono stato a roma vabbè a romix non conta e fa schifo a romix io vengo dalla liguria e posso assicurarti che non ti dico che sia difficile come la sicilia ma quali ma viene in aero e fino soprattutto se la gente si butta sotto il vento amici se non sapete di cosa stiamo parlando ma voi dovreste già sapere amici se non sapete di cosa stiamo parlando andate sul nostro canale di youtube che è un bellissimo mod adesso spammerà per vedere il nostro vlog a milano che dura quasi quanto un film potete usarlo come scusa per incontrare una ragazza e poi scoparla fortissimo esatto perché lei sarà molto eccitata perché vedrà i due piedi in webcam mamma mia i due piedi dal vivo quindi voi dovreste adempiere ai compiti che quella cervice richiede esatto o il pisello perché insomma noi siamo per l'amore in più ci sarà anche una sicura passata molto importante durante quella quel blog che è quella del cappello del potere è vero c'è il cappello giallo del potere due piedi giustamente dice liguria ma io ho la mica in liguria posso confermare quello che dicerà la tratta ferroviaria 20.000 a genova è un incubo cazzo 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 ma te rendi conto mamma mia che culo stretto mose ma voi siete ancora in continenti con il treno devo traghettare ma prendi l'aereo taishi prendi l'aereo taishi siamo nel 2019 prendi un cazzo di aereo cioè taishi nel 2019 ancora non sai di trasportarti ciao later ciao later ciao ebay anche te bayblade boyblade manblade dogblade catblade ma vaffanculo due pippo e di secli e due pippo e di secli molto bello ha fatto esattamente un beccatevi beccatevi questa terra piattisti la fambocca tit-tiri-titi oh no ma si affoga oh no ma si affoga ragazzi ma tanto lo sappiamo tutti la terra non è sferica non è un geoide non è piatta ma è a forma della faccia di due pippo no no ha la forma della faccia di due pippo beh interessante viviamo in un bellissimo pianeta ragazzi questo forma di dinosauro Sono andrata qualsiasi rapporto dovrei prendere treno autobus e arrivare in aeroporto. Gli abbiamo mezzi di trasporto che manco in africa per ieri per ieri pira prendi l'elefante e no a chi cazzo di versi Ma in africa vado solo del jeep E gli elefanti io faccio prima prendere Un aereo in solo francese che in solo italiano. Ragazzi mi è scomparso la Anno Marco Scusate ma il grinsetto. Avevo capito male il potere. Avevo capito male ti si messo il cappello marco Allora ora facciamo Ma Così dai Attacco si filide Questo è un gesto dell'ombrello ragazzi comunque per milano però per forza prendere un aereo quindi dovrò fare tutta satirite la prima o poi Prima o poi Prenderò l'aereo per milano così vede il numero di fermi dei tizi Ricontiamo Una, due, tre, due Va bene ma se toccate Prima o poi Prima o poi E' stato stratosferico Ma quello c'è già il bue? C'è il buco No, no brutta idea Brutta idea È stato bello perché l'ha detto brutta idea brutta idea brutta idea brutta idea brutta idea Però mica si è fermato la fatta è diventato pike Esatto It's too late Allora Ma immagino a me Poi era ammira solo a me Cretini tutti soprattutto dado Ma è vero luca Non ti sto a prendere per il culo E tutti quelli qua dentro possono confermare Anche ad airu Anche ad airu Un poca assifilide Un poca assifilide Altamura siamo con te Meno male che airu c'è Bravo airu Ragazzi perché nessuno mi va indietro con gli applausi pezzi di merda Perchè ho una mano in mezzale Vai airu Vai airu Attacco bunker Attacco uno E ha finito gli attacchi bunker dai Mi manco arriva Sì E invece Tanto ma se non è che ho finito gli attacchi bunker ho finito i nervi Perché muoio il prossimo I nervi? Ah i nervi? I nervi Sono i nervi quelli proprio super maschi Quindi allora I nervi I nervi Ma in realtà tu non vuoi fare quello Ma se infatti Maremma maiala Ah Eh ma? Che ci sentiamo? Se toccas facciamo ci divertiamo io provo a fare una cosa Con gli ATM finti infatti si Esatti Esatti ci sono le banche finte Come ci sono le banche finte esattamente? Amici Ebbè sono in terronio Ma se non hanno loro le banche finte Booma booma yeah Booma booma yeah Booma booma yeah That's the way I am That's the way I am I have to see you dance a party show Booma booma yeah Booma booma yeah Booma booma yeah Oh! Feel alright! Booma booma yeah tonight Nooo No birri Piripiri Piripiri Pipipipi Ci siamo fermati tre giorni Perché Sennò sarebbe stato un delitto Conta che una volta partito doveva restare tre giorni pagare l'allogio ovviamente tutte le spese il prossimo anno Ma anche noi siamo restati tre giorni riferisce di visti la ricerca perisce anche noi perché sennò veramente durava un cazzo quindi la fine va io così ti 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 ma mai vai grinsetta ha visto che tocca di nuovo a te che curlo non ci sta un cazzo di trasporto in questo gioco si abbiamo messo di no 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 bello l'ore che spiega cosa sono le palanche gli soldi ma scusatemi non ho visto che aveva scritto marco cerchietto siamo con te meno male che ci succe marco marco no che culo di merda marco vai bisonte penso passasse cazzatissimo definito cecetto non lo so dicevamo dicevamo che bel sorriso che ha fatto facciamo uno di uno al bambino a bambuc a bambuc a bambuc ma non puoi andartene dato dato non puoi andartene se tu che ti la live dato o no marco è finita e cominciato una maratona non possiamo uscire dalla non finirà mai più che poi sono una maratona solamente sul menù di hai capito cosa fa e che volo che volo ho fatto prego uno almeno che si è salvato uno almeno che si è salvato uno almeno che si è salvato uno si dicevate la run ha fatto il colpo della vita si diceva che si è salvato uno almeno che si è salvato uno almeno che si è salvato uno almeno di l'abbia soltanto l'ultima bomba e non mi fai un cazzo, e va sulla conchetta Quella si incrosta E quella sì, quella sì Poi mezzo ai pigli, un casino Che schifo che fate Cosa ti do? Parto L'appiccicadote è parte No, non credo, mi conviene fare questa cosa Si è molto precisa, si Brava Perché ci arriva sicuro l'abbatti i bunker lì No, però devo fare qualcosa Perdere non è un'opzione, Ramp Cazzo, cazzo, cazzo No, non ci arriva, non ci arriva Non ci arriva mai Eh, però hai perso, Ramp Però hai perso, Rann Non ne vuoi l'ha preso, deve incontrare Innanzitutto il mio gruppo di TS Poi dati conoscente Mi hanno accontrato Più persone rispetto ad esempio a Roma A noi non ci includi, eh Infatti no Vabbè, forse facciamo parte di altri conoscenti Noi che siamo gli altri, noi Io non guardo Eh No No, noi siamo No, noi siamo in correlazione insieme agli altri che metti, di solito Parca puttana, Rann Hanno detto in correlazione insieme agli uni Conoscenti Che cazzo di correlativi, di correlativi usi No, non ho capito Marco neanche ho capito Ragazzi, il... Unicorgi Ha detto in correlazione agli altri, non agli uni Vado a togliermi la vita Ciao Ciao Gli uni conoscenti Mi sa che ha vinto Rann Ma voi non vi stanno tutti i giorni su TS Taichi, è una tua scelta Taichi, potevi anche stare su Discord qui Rann C'ho provato Sei folle Ma tu sai, ributterò dal battibunker Sai che forse la vibrazione si fa cadere di sotto Mase, sai che scherzavo? Io ho avuto una paura Mase, siamo con te Ovvio, voglio toccarvi tutti Voglio toccarti la pelata No, no, io voglio toccarvi la pelata Taichi Ah, peccato Mi tocca vincere la partita L'ha detto Mase, che rischio Ragazzi, non mostro io con la Mamma mia, Mase Il pecorone Come scusa? Ma non sono pelata Peccato Volevo usare l'armageddon Ma mancavano due turni Sì, anche a me Complimenti al signor Cafaro Un applauso Sì, abbiamo vinto praticamente una testa Tranne run Tranne run Sarà il titolo della prossima live Abbiamo vinto tutti, tranne run Amici Io vi ringrazio Vi saluto E vi do un bacino con il pisello Questo che era il bacino ridato con il pisello? Questo che era il bacino con il pisello Ringraziamo il buon Thor Furry Per la resab di sette mesi E niente Vi ricordo che Dobbiamo arrivare a 20 euro Entro fine mese Per cacciare Luca Da tutte le live di Roll Esatto, esatto E metteremo per la prossima live Il goal E niente Vi ricordo i nostri canali Che vi ricorderà La lampiola I nostri canali I nostri canali Il nostro canale YouTube Per andare a rivedere I ragazzi vecchi E il nostro Telegram E il nostro Telegram Per tutte Le cose Per sapere quando stiamo Andando a live E poi Il nostro Il nostro canale Instagram Dove mettiamo e foto Date Quello E referral Per spendere Per spendere meno Dei giorni I soldi Adesso Chiriamo la live Ovviamente adesso si va a dormire Questo vuol dire caro Dato Che si va a letto Polizia